Riforme che cambiano il paese. Il governo punta al sostegno alle famiglie con l'avvio dell'assegno unico e a dare forza alla macchina dello Stato che dovrà gestire i fondi europei con nuove assunzioni rapide e dirette nella pubblica amministrazione. È un'Italia sempre più libera dal contagio quella che emerge dal monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. L'indice RT nazionale scende ancora rispetto alla settimana scorsa. Nessuna regione supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva. Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto da lunedì diventano bianche. Ha offerto le sue dimissioni al Papa il cardinale Reinhard Marx, arcivesco di Monaco e Frisinga, già presidente della conferenza episcopale tedesca. Un gesto motivato da non essere riuscita la Chiesa tutta a combattere il fenomeno degli abusi sessuali. Viaggio a Gaza dopo la tregua nei bombardamenti israeliani. In risposta agli attacchi di Hamas, la piccola comunità cristiana paga come tutti. Case sventrate, paura degli sciacalli che depredano i pochi effetti integri. Colpite anche le scuole cattoliche, da poco è tornata l'energia elettrica, ma solo per otto ore al giorno. L'ultima cena in un video proiettato sull'interno della cupola nella Chiesa degli Artisti a Roma. Da oggi fino a domenica sono tre premi Oscar a curare cortometraggio ed allestimento, un omaggio collegato alla festa del Corpus Domini. Buonasera e benvenuti al TG2000. Lo avete sentito dai titoli. Il governo nel Consiglio dei Ministri, iniziato da circa un'ora, sta discutendo di un altro importante tassello del piano di ricostruzione, cioè le assunzioni nella pubblica amministrazione. Atteso anche il via libera all'assegno per le famiglie. Il servizio di Augusto Cantelmi. Dopo il decreto semplificazione, il decreto sulla gestione del piano di ricostruzione, arriva anche quello sul reclutamento di circa 24 mila funzionari per la realizzazione dei 300 progetti del recovery plan. Sollecitato dall'Europa pronta a distribuire soldi, ma soltanto in cambio delle 30 riforme richieste, l'esecutivo accelera e incassa un altro obiettivo considerato storico come l'assegno unico per i figli. Il fattore tempo dunque spinge il governo anche per ottenere la prima tranche da Bruxelles e allora massima attenzione a non sprecare energie e soprattutto risorse, di cui la decisione presa dopo non facili trattative con i ministri dal presidente del Consiglio Draghi di limitare l'assunzione nella pubblica amministrazione soltanto alla personale, tra funzionari, tecnici e ingegneri altamente qualificati e necessari per portare a termine i progetti del recovery. È il tutto come spiega il ministro della Funzione pubblica Brunetta attraverso i concorsi. Ci saranno concorsi spalmati su ogni stagione dell'anno, primavera, estate, ottuno, inverno con un numero definito di partecipanti. Il clima è decisamente migliorato e anche i dati sembrano allinearsi come quelli del PIL con l'Istat che migliora il livello della crescita per quest'anno al 4,7%. Non mancano tuttavia gli ostacoli a cominciare dalla giustizia, altra riforma richiesta dall'Europa. La maggioranza resta spaccata sulle prescrizioni. Oggi la guarda a sigilli Cartabi ha incontrato le delegazioni dei partiti, mentre il referendum sulla giustizia di Radicali e Lega rischia di complicare la navigazione dell'esecutivo. L'assegno unico per le famiglie partirà l'anno prossimo. Dal 1 luglio arriva un primo sostegno temporaneo. Vediamo in cosa consiste e chi può richiederlo. Il servizio di Clara Iatosti. La misura è ancora in costruzione, ma per il sussidio alle famiglie forse ci siamo. Per i primi sei mesi l'importo medio è di 1.056 euro a nucleo e di 674 euro a figlio. Sono interessati 1.800.000 famiglie, con isa fino a 50.000 euro e 2.700.000 minori. Per ottenere il nuovo assegno bisognerà presentare domanda online all'Inps o ai patronati, secondo le regole che saranno fissate dall'Istituto di Previdenza Sociale entro il 30 giugno prossimo. Lo schema di decreto oggi all'esame di Palazzo Chigi garantisce comunque la decorrenza dell'assegno dal mese di presentazione della domanda. Inoltre, per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre prossimo, alle famiglie interessate saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio. Tutto avverrà con bonifico bancario direttamente sul conto corrente. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno sarà accreditato al 50% sul Liban di ciascun genitori. Un provvedimento atteso e fortemente voluto dal Premier agli Stati Generali della Natalità, Draghi lo aveva sostenuto perché, aveva detto, l'Italia senza figli è destinata a scomparire. E anche Papa Francesco aveva promosso l'assegno unico. Se le famiglie non sono al centro del presente, le sue parole, non ci sarà futuro. Ma se le famiglie ripartono, tutto riparte. Sono oltre 24.000 le assunzioni previste dal decreto per il reclutamento del personale per l'attuazione del recovery plan di cui si sta discutendo in Consiglio dei Ministri. Allora, sentiamo il servizio di Alessandra Camarca. Assunzioni, premi e dipendenti, ma anche stop agli incarichi se non si raggiungono gli obiettivi assegnati e definiti dal contratto. Nei 20 punti della bozza del decreto legge sulla pubblica amministrazione, finanziato con il recovery plan, ci sono le basi per una riforma sostanziale della macchina dello Stato. Una rivoluzione ancora suscettibile di modifiche che dovrebbe, da un lato, rafforzare la capacità funzionale della pubblica amministrazione e dall'altro valorizzare il personale con fasce di meriti e bonus. Il decreto prevede procedure accelerate per le assunzioni, con concorsi semplificati e digitali da chiudere in 100 giorni, risorse per la formazione di giovani con forme di apprendistato e banche dati digitali per assumere professionisti particolarmente qualificati. In totale saranno oltre 24.000 le assunzioni a termine entro il 2026. Raddoppia anche il tetto per il conferimento di incarichi dirigenziali a manager esterni da assumere con contratto a tempo determinato. Passa dal 5 al 10% sia per i dirigenti di prima fascia che di seconda fascia. E da lunedì Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto passeranno in zona bianca. Per il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro, presto in tutta Italia, potrebbero cadere le restrizioni. Sentiamo Federico Plotti. Continua il lento ma costante calo dei contagi. 2.257 nelle ultime 24 ore con un indice di positività all'1,1%, mai così basso da quando viene rilevato, calcolando anche i tamponi rapidi. Diminuisce ancora la pressione sulle strutture ospedaliere. Al momento sono poco più di 5.800 le persone ricoverate con sintomi nei reparti ordinari e ben al di sotto delle mille quelle in terapia intensiva. È un'Italia in cui aumenta la fiducia e che lentamente prova a rialzare la testa, spinta dalla voglia di ripartire, ma anche e soprattutto da dati sempre più confortanti. La campagna vaccinale procede spedita e tutti i parametri sono in miglioramento. A partire dall'indice RT nazionale in discesa anche in questa settimana, 0,68 nell'ultimo monitoraggio della cabina di regia. Nel precedente rilevamento era lo 0,72. Tra i dati più confortanti c'è il calo dell'incidenza del coronavirus. 32 casi ogni 100.000 abitanti venerdì scorso erano 47. L'altro dato importante è che quasi tutte le regioni tra noi sono sotto il valore di 50 per 100.000 abitanti nei sette giorni. Il trend di decrescita continua a confermarsi. A giugno con l'arrivo di oltre 20 milioni di dosi di vaccino daremo, usando le parole del commissario all'emergenza Figliuolo, una spallata decisiva al coronavirus. Sarà anche il mese in cui l'Italia gradualmente tornerà quasi alla normalità. Da lunedì prossimo altre quattro regioni passeranno in zona bianca. A Friuli, Venezia Giulia, Molise e Sardegna si aggiungeranno infatti Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto. Il 21 poi in gran parte del paese cadranno la maggior parte delle restrizioni, compreso il coprifuoco. Il 28 giugno l'ultima regione a passare in bianco sarà la Valle d'Aosta. Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato la legge che impedisce di candidarsi alle elezioni a coloro che sono associati all'attività di organizzazioni estremiste e terroristiche. La misura è stata soprannominata legge anti Navalny, poiché se l'organizzazione verrà riconosciuta come estremista nel processo in corso, tutto l'organigramma nazionale del movimento dell'oppositore sarà escluso dalle elezioni parlamentari di settembre. Il giornalista e dissidente Roman Protasevich, detenuto dal mese scorso in Bielorussia, dopo il dirottamento a Minsk dell'aereo Ryanair sul quale viaggiava da Atene a Vilnius, è comparso alla televisione di Stato per un'intervista confessione di un'ora e mezzo, chiaramente estorta dalle autorità, come ha denunciato la leader dell'opposizione svetlana Tikhanoskaya. Protasevich, 26 anni, cofondatore ed ex direttore del canale Telegram Nexta, che in questi mesi ha trasmesso informazioni sul movimento di opposizione ad Alexander Lukashenko, ieri sera ha confessato di aver organizzato proteste di massa contro il presidente della Bielorussia, che ha anche detto di ammirare la madre. Natalia Protasevich, residente in Polonia, ha denunciato che le parole del figlio sono il risultato delle torture che ha subito in carcere. La polizia cinese a Hong Kong ha mobilitato più di 7 mila agenti per impedire l'annuale veglia di commemorazione ad Hong Kong delle proteste della strage di piazza Tiananmen, che fu compiuta a Pechino dal regime comunista tra il 3 e il 4 giugno del 1989. Massimiliano Cocchi. L'accusa è di aver pubblicizzato su Twitter una commemorazione per le vittime della repressione cinese di Tiananmen, manifestazione vietata dalla polizia. Per questo a Hong Kong è stata arrestata l'attivista Chowang Tung, che qui vediamo in una manifestazione di circa un mese fa. Assieme a lei, con la stessa accusa, è stata arrestata anche un'altra persona. Il 4 giugno del 1989 i militari cinesi spararono sui manifestanti che chiedevano libertà e rispetto dei diritti umani. Il numero delle vittime mai accertato varia da alcune centinaia, diverse migliaia. Da allora le autorità cinesi hanno vietato sempre qualsiasi commemorazione. I diritti umani sono universali e tutti i governi devono proteggerli e promuoverli, ha scritto oggi su Twitter il segretario di Stato americano Anthony Blinken, chiedendo a Pechino trasparenza sui fatti di Tiananmen, rendendo noti i nomi di coloro che furono uccisi, imprigionati o che ancora oggi risultano dispersi. Immediata e durissima la risposta del governo cinese, che accusa gli Stati Uniti di interferire nei propri affari interni e li invita, dice letteralmente il portavoce del Ministero degli Esteri, a guardarsi allo specchio e vedere le proprie violazioni dei diritti umani. Sull'asse Washington-Pechino negli ultimi giorni volano accuse e sospetti. Ieri l'infettivologo Anthony Fauci ha chiesto alla Cina di rendere pubbliche le cartelle cliniche di tre dipendenti del laboratorio di virologia di Wuhan che si ammalarono nel 2019 e quelle di sei minatori, tre dei quali sono poi morti, che si ammalarono nel 2012. In quelle cartelle cliniche potrebbero esserci indizi importanti sull'origine del virus. Gli Stati Uniti continuano infatti ad accusare i cinesi di non aver detto tutto quello che sanno sul Covid-19. Sarà più agevole per le persone con disabilità, titolari di contrassegni per l'auto, spostarsi su tutto il territorio nazionale e accedere nelle zone a traffico limitato e nelle strade o corsie dove vigono divieti e limitazioni. Questo sarà possibile grazie all'istituzione di una piattaforma informatica unica. Il servizio di Luigi Ferragliuolo. Mai più multa ai disabili per viaggiare nelle ZTL o nelle zone pedonali o sulle corsie preferenziali. Ci avevano già provato lo scorso anno con il database unico nazionale per i disabili, ma non lo avevano imposto come obbligatorio per i comuni. Adesso lo hanno fatto e hanno previsto le sanzioni per le amministrazioni locali. Le leggi devono sempre badare ai cattivi comportamenti, altrimenti non funzionano. È un contrassegno con il quale la persona con disabilità potrà entrare in tutte le ZTL senza dover di volta in volta chiedere l'autorizzazione. Finora bisognava di volta in volta comunicare ai comuni il passaggio nelle varie zone, altrimenti arrivava puntuale la multa e una visita medica o ai parenti lontani diveniva un'impresa impossibile. Abbiamo tanto bisogno di semplificazione, da anni che lo si dice, non è sempre facile, ma le persone con disabilità hanno vissuto un anno molto ma molto complicato. Il governo punta anche a creare una bonus card per i disabili per entrare nei musei o facilitare le loro attività sociali senza produrre più singole richieste. È un progetto che permette alle persone che hanno una disabilità di poter avere una tessera la quale permetterà a queste di poter usufruire anche di servizi e quant'altro senza dover esibire di volta in volta un pacchetto di certificazioni. È stata completata la mappa del genoma umano, un traguardo per la medicina del futuro. Fabio Bolzetta. Dopo 20 anni, grazie alle nuove tecnologie, la mappa del genoma umano può dirsi completata, con oltre 3.400 nuovi geni che finora erano sconosciuti. A contribuire alla scoperta di quell'8% dell'albero della vita che risultava ancora da scrivere, la ricerca che fa capo al consorzio Tilomer to Tilomer. Il primo autore della ricerca è Sergei Nork, esperto di genomica computazionale nella National Institutes of Health degli Stati Uniti. Sarà così possibile conoscere ogni cromosoma in dettaglio finora mai raggiunto. La scoperta, a differenza della mappa ottenuta 20 anni fa, è nata da una gravidanza anomala, ossia dalla crescita nell'utero di un ovocita privo di nucleo che conteneva due copie degli stessi 23 cromosomi. Le ultime tecnologie di sequenziamento del DNA hanno permesso lo studio. Il genoma umano è una grande biblioteca, composta da circa 190 volumi per 260.000 pagine, mancavano un po' di pagine, pari a una decina di volumi. Un traguardo per la medicina del futuro è che percorre l'ultimo miglio. Il risultato, infatti, è stato pubblicato sul sito BioArxiv, che accoglie gli articoli in attesa dell'esame della comunità scientifica. I telomeri e i centromeri, dove c'è un DNA particolarmente interessante, ripetitivo, cioè fatto di frasi che si ripetono. Quando si ripetono troppo, si associano ad esempio a malattie genetiche importanti. Questa ricerca apre nuove strade alla diagnostica e alla possibilità di terapia delle malattie genetiche cosiddette da sequenze instabili. Ancora incidenti sul lavoro, anche oggi è stata una giornata drammatica. Un uomo è morto questa mattina in un cantiere all'Effe, in provincia di Bergamo. La vittima è un 59enne che intorno alle 7.45 è stato travolto mentre lavorava. L'operaio ha riportato un gravissimo trauma da schiacciamento. E nel pomeriggio, altra tragedia, a Cossano Belbo nel Cunese, morti due operai caduti in una cisterna di un'azienda vinicola. Avrebbe ucciso la sorella, figlia di uno storico clan mafioso del Catanese legato a Cosa Nostra, perché tradiva il marito con esponenti del suo clan e di uno rivale. È l'accusa contestata ad Alessandro Alleruzzo, 47 anni, figlio del boss deceduto Giuseppe, e destinatario di un ordine di custodia cautelare per l'omicidio della sorella, Nunzia. La donna era scomparsa di casa il 30 maggio del 1995. Pio il giorno il figlio di 5 anni disse di averla vista uscire di casa con suo zio Alessandro. Secondo un pentito, lo stesso Alleruzzo gli avrebbe raccontato di aver ucciso la propria sorella per riscattare l'onore della famiglia. Ha offerto le sue dimissioni al Papa. Il cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga, già presidente della conferenza episcopale tedesca dal 2014 al 2020. In sostanza, per me si tratta di condividere la responsabilità per la catastrofe degli abusi sessuali da parte degli esponenti della Chiesa nei decenni scorsi, ha scritto il cardinale in una lettera al Papa. Sentiamo Paolo Fucili. L'intento è assumersi la corresponsabilità per la catastrofe, testuali parole, dell'abuso sessuale perpetrato dai rappresentanti della Chiesa nei decenni ultimi. Perché la Chiesa in Germania è in crisi, è la causa e anche il personale fallimento nostro. Siamo ad un punto morto, scrive a Francesco il cardinale Marx, per dimettersi, se il Papa accetterà, da arcivescovo di Monaco. Lettera datata 21 maggio e pubblicata oggi col permesso del Papa. Parole pesanti, considerato che a scriverle e a tornarci su oggi con i giornalisti, è un nome di spicco della Chiesa, non solo in patria. Già presidente dei Vescovi tedeschi fino a un anno fa, membro tuttora del ristretto Consiglio dei Cardinali, con cui il Papa sta varando la riforma della Curia Romana. 67 anni, Vescovo dal 96, successori a Monaco anche del futuro Papa Cardinale Ratzinger. All'arcivescovo Marx mancano ancora otto anni per le obbligatorie dimissioni per limiti di età, ma ho deciso io di persona di presentarli adesso, dice oggi. E non perché stanco o demotivato. Gli scandali sessuali sono fallimenti anche di sistema e osservo invece con preoccupazione la tendenza a negarne cause e rischi, anziché prendersi responsabilità come si aspettano le vittime e la svolta per uscire dalla crisi suggerisce anche e solo la via sinodale. Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza una rappresentanza della Chiesa della città di Firenze che ha voluto rendergli omaggio nel settimo centenario della morte di Dante. La delegazione, con il Cardinale Giuseppe Betori e il Sindaco Dario Narvella, ha parlato al Papa anche dell'incontro che nel 2022 riunirà a Firenze Vescovi e Sindaci del Mediterraneo. Ed ora a Gaza, dove la nostra corrispondente dalla Terra Santa, Alessandra Buzzetti, è andata a vedere qual è la situazione della comunità cristiana dopo il cessato del fuoco tra Israele e le forze islamiste di Hamas. Vediamo. Abitavamo qui da 30 anni, a secondo piano, guarda come ci hanno ridotto. Il nostro viaggio sul calvario della piccola comunità cristiana di Gaza comincia dalle macerie della casa di Manale, di sua madre Ferial. Uno degli obiettivi del primo massiccio attacco israeliano era al palazzo di fronte, l'11 maggio alle 19.30. E' stato un vicino ad avvisarci, ha bussato alla porta per dici di scappare perché stavano per bombardare. Questa era la mia camera da letto, è crollato anche il balcone. Lì sotto ci sono tutte le mie cose, ma non siamo autorizzati a recuperarle. Il pericolo per la famiglia Hazayegh, come per le altre 2000, che hanno abitazioni non più agibili a Gaza, sono oggi anche gli sciacalli. Per questo Ferialo, 82 anni, ospite dell'altra figlia rana, torna ogni giorno nel suo appartamento, mezzo distrutto. Sono nata qui, non solo una profuga. E' la terza casa che mi viene danneggiata, nel 2008, nel 2014, ma questa volta è stato davvero terribile. A due settimane dal cessato il fuoco, e tornata almeno l'elettricità per otto ore al giorno, i bulldozer iniziano a rimuovere le macerie. Di fronte alla scuola delle suole del Rosario, una delle migliori di Gaza, c'è una voragine. Suor Nabila ci apre il portone. Un'intera ala è a rischio crollo. Migliaia di dollari di danni, il bilancio di tre giorni di bombardamenti, perché nell'area c'è una base militare di Hamas. Questa stanza era la stanza di musica per i bambini. Come terremoto abbiamo avuto tanta paura. Tutti i 11 giorni dormiamo con l'abito religioso, pronti per la morte. Non lo lasciamo qui, perché dove c'è sofferenza c'è la grazia. Nel cortile della scuola sono arrivati i ragazzi della parrocchia, pronti finalmente a riprendere le loro biciclettate il venerdì mattina. Un modo semplice per iniziare a lineare ferite non visibili, ma profondissime. Shaila ha 16 anni e di guerre ne ha già vissute quattro. Sono contento di poter finalmente stare con i miei amici, ci dice, mentre Kamala, a 10 anni, ci mostra con orgoglio la sua invenzione per rendere la sua bici una motocicletta. Perché a un bambino basta davvero poco per tornare a sorridere. Pakistan ha assolti due coniugi cristiani che erano stati condannati a morte per blasfemia. Hanno passato otto anni nel braccio della morte. Ce ne parla Maurizio Dischino. Assolta per mancanza di prove dall'accusa di blasfemia. Dopo otto anni nel braccio della morte in un carcere di Lahore in Pakistan, una coppia di cristiani è stata scagionata dall'Alta Corte di Lahore. La notizia è stata diffusa oggi dall'agenzia Asia News che ha pubblicato la foto di Shagufta Khausare Shafkat Emanuel, la coppia di cristiani condannata alla pena di morte da un tribunale distrettuale con l'accusa di aver inviato con il cellulare un messaggio contro l'Islam. Il fatto risale a luglio 2014. La coppia e quattro figli vivevano in povertà in un compound della missione di Gojira nello stato del Punjab. Shagufta Khausare Shafkat Emanuel sono stati accusati di blasfemia da vicini di casa i quali hanno sostenuto che la coppia ha scritto messaggi offensivi contro l'Islam attraverso il cellulare. Ma la coppia cristiana è analfabeta e da tempo aveva smarrito il cellulare. Inoltre, sei mesi prima della denuncia, aveva litigato proprio con i vicini di casa che l'ha accusata di blasfemia. In Pakistan, tale accusa, favorita anche dalla legge sulla blasfemia, viene strumentalizzata per vendette personali o per odio religioso. Le motivazioni del verdetto di assoluzione saranno pubblicate entro due giorni. La coppia cristiana è stata difesa da un avvocato musulmano, Saif ul Malok, il quale ha dichiarato di essere felice perché è stata fatta giustizia. Un grande abbraccio virtuale di tutta l'Italia per la nazionale di Roberto Mancini in cammino verso l'europeo che vedrà gli azzurri debuttare l'11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma contro la Turchia. Ma intanto questa sera allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna ultimo test amichevole per gli azzurri prima dell'europeo contro la Repubblica Ceca. Tre premi Oscar, Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo e Vittorio Storaro per un cortometraggio, l'ultima cena proiettato da oggi presso la Chiesa degli Artisti a Roma. Fabio Falzone. Il Banco della Luce tre volte premia Oscar Vittorio Storaro, Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, anche loro vincitori di tre Oscar a testa. La regia sapiente di Armando Linus a costa, ma soprattutto la bellezza senza tempo dell'ultima cena e il suo messaggio. La volta della Basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma, la cosiddetta Chiesa degli Artisti, si illumina da oggi a domenica 6 giugno con le immagini di un cortometraggio emozionante, ispirata all'ultima cena. Un'iniziativa speciale in occasione del Corpus Domini, in un anno speciale fatto di dolore, ma anche in qualche modo di speranza. Credo a molto radire anche al Mondoriagge che per voi è stata una bella sfida. Beh sì, insomma voglio dire rifare l'ultima cena di Leonardo, non è una cosa semplice, proprio anche perché quello che uno vedrà stasera, insomma voglio dire una cosa che ti emoziona molto, secondo me. E cioè dare movimento per poi fermarsi alla fine dove tutto è immobile, però come il quadro di Leonardo. Perché adesso? Perché proprio ora? Innanzitutto perché vuole essere un segno di rinascita e di speranza. Poi la solennità del Corpus Domini ci ha donato proprio l'opportunità, direi proprio propizia, no? Per contemplare quello che già lo stesso Leonardo voleva che potessimo ammirare. Cioè il dono di Gesù che offre il suo corpo nel momento in cui celebra l'ultima cena. Ci fermiamo per qualche istante ma torniamo tra pochissimo. Restate con noi. Ancora una notizia prima di chiudere. L'Agenzia Europea dei Medicinali potrebbe non essere in grado di avere sufficienti dati per un'indicazione precisa agli Stati che nei prossimi mesi chiederanno un'approvazione per la vaccinazione con un richiamo diverso dalla prima dose del vaccino anti-Covid. In ogni caso l'EMA guarderà tutti i dati disponibili dagli studi in corso. Non si attendono invece richieste di autorizzazione in questo senso da parte delle aziende. Ora il meteo e poi la Santa Messa. Prossima edizione del TG2000 alle 20.30. Buon proseguimento. A più tardi. A più tardi.